Pronto soccorso affollato anche ad Arezzo, la psicosi da coronavirus determina il fatto che appunto ci si possa rivolgere al pronto soccorso anche per i normali sintomi influenzali che sono assolutamente di stagione ma che dopo l'emergenza spaventano molto di più. L'allarme dopo i casi italiani di coronavirus che sembrano essere più numerosi in Europa per adesso è ormai alle stelle, tanto che i riferimenti sanitari sul territorio dal 118 alle guardie mediche e pronto soccorso vengono subissati di richieste di intervento e accessi. Anche i numeri verdi messi a disposizione delle ASL sono presi d'assalto con richiesta di informazioni e chiarimenti. Per adesso in Toscana non c'è nessun caso accertato ma ce ne sono stati di sospetti. Il virus fondamentalmente si contrae per via aerea, questo significa che bisogna stare a distanza di almeno un paio di metri da persone eventualmente a rischio o affette, ora qui dalle parti nostre non c'è se gli vuole né a rischio né a affette, però si deve stare a distanza, si devono utilizzare le mascherine o meglio ancora il malato dovrebbe utilizzare la mascherina. Se il soggetto sano ha la mascherina col filtro potrebbe utilizzare anche quella perché la protegge in qualche misura. L'igiene personale assoluta delle mani soprattutto con acqua e sapone e disinfettanti, con la disinfezione delle superfici, l'aerazione degli ambienti, con queste semplici cose che sono estremamente banali ma estremamente importanti. E il coronavirus sta avendo effetti anche sulla mobilità degli studenti, le gite scolastiche per direttiva ministeriale sono state tutte sospese. Il liceo Città di Piero di Sansepolcro avrebbe dovuto effettuarne una proprio in queste ore a Cannes in Francia. I genitori, quindi i ragazzi, si sono presentati alle 7 di mattina con la valigia in mano di fronte al pullman pronto per partire ma sono tornati tutti a casa. Altri studenti del liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo che invece si trovavano in Inghilterra da una settimana, torneranno a casa in queste ore ma non si tratta di un rientro anticipato. Il suo figlio torna da una gita, da dove? Da Cambridge, da Londra, una settimana. Però ci hanno tranquillizzato che è tutto tranquillo, certo di ottemperare le misure piccole di igiene, lavarsi bene le mani e queste cose che hanno dato l'esposizione in questi giorni, delle giornali, non creare troppi allarmismi. I studenti di prevocazione per ora hanno consigliato di usare la mascherina agli aeroporti e di lavarsi bene le mani con la mochina, magari stare un pochino a distanza con le persone, questi accorgimenti qui.